Abbiamo detto che la PEC, o posta elettronica certificata, è del tutto analoga a un servizio di posta elettronica, ma ha qualcosa in più, tale da renderla uno strumento dotato di valore legale. Di quel qualcosa in più fa proprio parte il sistema di notifiche che vengono inviate al mittente nel caso di uno scambio di messaggi tra PEC e che assicura la totale sicurezza della PEC e l'inalterabilità del messaggio, il valore legale dell'invio. Capirei quindi come proprio queste ricevute assumono un'importanza fondamentale. Ecco perché quando invii un messaggio certificato è importante che ti assicuri di ricevere la notifica di accettazione subito dopo l'invio. In questo modo saprai che il tuo messaggio è stato preso in carico dal servizio, che il contenuto è stato protetto tramite crittografia e firma e che questo arriverà inalterato al destinatario senza possibilità di modifica. In più accertati di ricevere la notifica di avvenuta consegna. È proprio questa infatti che dà la garanzia che il messaggio è correttamente arrivato al destinatario riportando data e ora della consegna e al pari di una ricevuta di ritorno a pieno valore legale e può essere utilizzata come prova anche in caso di contenzioso. Dovrai invece prestare particolare attenzione ai messaggi di errore che potresti ricevere successivamente all'invio di un messaggio certificato come la ricevuta di mancata consegna che ti metterà subito in guardia nel caso si sia verificata qualche anomalia durante l'invio. Vuoi sapere di più sulla posta elettronica certificata? Vai al prossimo video!